Lo studio LR Immobiliare nasce nel 2003 con l'intenzione di distinguersi dai suoi competitor per professionalità e serietà nella proposizione della propria offerta di consulenza. Abbiamo creato un gruppo, un team di professionisti specializzati nella consulenza per clienti che vogliono avvicinarsi al mondo delle aste immobiliari. È un settore molto complesso dove è assolutamente sconsigliabile di far da soli, di ricorrere al file da te con la vaga impressione di poter risparmiare qualche costo e poter invece rischiare di avere grossi danni economici per non conoscenza della materia che è assolutamente molto molto difficile e complessa e in continuo costante aggiornamento quotidiano. Quali sono i passaggi logici che ci consentono di acquistare un immobile all'asta? Individuato l'immobile vado fisicamente sul posto e mi rendo conto se il contesto di zona è a me gradito. Fatto questo chiedo se l'immobile abbia un'anamnesi relativamente alla propria costituzione in tribunale che mi consenta di fare un acquisto garantito. Questo è il passaggio logico più delicato che ci consente di arrivare al Red Nazionem con la capacità di discernere l'immobile che possiamo acquistare dall'immobile che potremo invece lasciare andare per essere tranquilli. Nella realtà una volta visto l'immobile all'interno e scelto quell'immobile procura notarile, partecipazione all'esperimento d'asta con la formulazione dell'offerta e con l'emissione di un assegno circolare bancario, immediatamente dopo l'aggiudicazione e decreto di trasferimento, consegna delle chiavi e presa di possesso dell'immobile.